Fisicamente sto bene, penso, ancora meglio da prima. Questo è una cosa che dopo due anni in Italia, dove abbiamo lavorato tantissimo con la squadra all'Inter, con i preparatori e anche il nutricionista, è una cosa che rimane come per sempre. Allora fisicamente devo dire che sto bene, giusto non sono contento con la situazione, questo è normale. Penso che il mister ha fatto una scelta di giocare in un altro modulo e io dovessi non molare, continuare a lavorare, essere professionista. Non sono contento con la situazione, però sono lavoratore e non devo molare. Tutti come ho successo non dovevo succedere così. Come ho lasciato l'Inter, la maniera come ho comunicato verso il tifoso, questo mi dà fastidio. Perché non è il momento giusto adesso, però anche al momento che io sono andato non era il momento giusto. Adesso penso che è giusto di parlare, perché ho sempre detto, ho l'Inter nel cuore, tornerò a giocare di là. Io spero veramente. Sono diventato innamorato dell'Italia e questo giustamente è il momento di parlare e di far sapere alla gente che è veramente successo, senza parlare male delle persone, perché io non sono così. Vuoi mandare un messaggio ai tifosi italiani che ti hanno visto fino a oggi? E adesso ti seguono su Sky in Premier League? Primo voglio fare un grande scuso alle tifose dell'Inter, perché io penso che la maniera come mi sono andato deve essere in un altro modulo. Io dovevo parlare prima con voi, perché le cose che voi avete fatto per me, ma anche per mia famiglia, mia madre, mio figlio, sono cose che mi hanno in mano per me e per la vita. Io spero veramente dal fondo del mio cuore di tornare all'Inter, non alla fine, alla fine della mia carriera, però a un livello ancora buono per sperare di vincere di più. Grazie a tutti.